Gaia Sabatini hai i laboratori nazionali del Gran Sasso, qual è una tua impressione dopo questa visita? Sono veramente immensamente felice perché è stata una visita super emozionante e molto suggestiva, ho capito veramente tante cose grazie anche alla mia guida e mi ha emozionato insomma vedere insomma tutti tutti questi esperimenti quindi che si lavora per per scoprire veramente qualcosa e non per per un ritorno economico mi ha emozionato tanto è un mondo di cui io non so assolutamente nulla e quindi venire qua e scoprirlo per me è stata veramente una cosa fantastica ringrazio tanto tutti voi. Qual è la cosa che ti ha colpito di più? Allora la cosa che mi ha colpito di più è il piombo romano quello sì sicuramente è stato quando me l'hanno detto sono rimasta a bocca aperta quindi mi è piaciuto tanto poi sono andata anche a vederlo appunto ed è stata una cosa fantastica insomma sapere che c'è questo materiale di tantissimi anni fa che ad oggi viene utilizzato per portare a termine questi esperimenti. Grazie Gaia. A voi.